Avevamo bisogno di portare al centro dell'amministrazione i nostri cittadini, le nostre associazioni e mi auro che questo adesso sia possibile, ho colto proprio questa voglia di partecipare e sono orgoglioso di aver dato il mio contributo perché questo possa veramente succedere. Così Pierluigi Giacomello, sindaco neoeletto di Lonigo, individuava a caldo la ragione prima per cui era stato scelto subito dai leonicensi. Il comune infatti, unico nel Vicentino, con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, avrebbe previsto un ballottaggio se la differenza di voti con la rivale Francesca Dovigo fosse stata inferiore di una cinquantina di preferenze. Ma così non è stato e da oggi il sindaco neoeletto potrà concentrarsi subito sulle cose più urgenti da fare. Da dove partirà? C'è un problema rilevante sulle scuole, abbiamo dei bambini, in particolare della scuola materna, che devono tornare a casa perché non c'è disponibilità di aule. È un appello che io ho fatto anche nell'ultimo confronto elettorale, a prescindere dal risultato, agli altri due miei competitors, su cui avevano dato la loro adesione. Ed è la prima cosa che voglio fare, sistemare questa cosa perché i genitori possano rimanere tranquillamente al lavoro e che i bambini possano andare a scuola anche nel pomeriggio.